Salve a tutti ragazzi, sono PeppaGamers Ed eccoci in questo nuovo video su Sargent Simulator Credo di averlo pronunciato bene Allora, chi non sa che cos'è Sargent Simulator Sarebbe un simulatore di... Ehm... Tipo come... Come questo Un simulatore di questo? No, scherzato Allora, sarebbe un simulatore Tipo dottore, in pratica Dobbiamo fare delle operazioni speciali Comunque Ehm... Dovremo aspettare una chiamata, però Questa sera non buttiamo tutto giù E quindi... C'è poi un cellulare che non è neanche collegato Prima di Deathsport si sta scaricando E iniziamo l'operazione Molto velocissimamente Adesso Il tempo, vabbè, il tempo non ci importa Che devo andare a qui Vediamo Che cazzo Vediamo se riesce a starcare la testa, no Impossible game Vediamo se riesco ad appunto Pronto Tutto Allora, naturalmente dovremmo usare queste cose Vediamo un po' Vediamo un po' Chettino Sì Riuscendo a non punte il nido Riesco a prendere L'ho presa anche a carto di cane Vediamo che c'è Il cuore Sì, il cuore Non lo facciamo cadere Naturalmente Ah, sto cadendo tutto Mi sto tagliando io Ah, io No, non cadere troppo No, non cadere No Caduto Vabbè, proviamo con questo No Ah Blockato Oh, però è un buon mezzo Ah, bell'arma Speriamo che lo so qui Ah, adesso si Che si è ancora Adesso si Ah, ecco Ecco qua Un colpetto E via Ecco Non ti preoccupare signore Che dopo proviamo Vediamo se Se svegli o no Perché Sperati Ok Credo che così vada bene Adesso continuiamo Che se viva un morto Ok Ok Se rileviamo Tutto il toracio Qui Vediamo di tutto Ste schifezze Ah, vieni via Ok Buttiamola lì Che non ci serve più Credo che non ci serviva più Speriamo di no Allora Adesso Cerchiamo di riprendere il martello E scassiamo in qua Ah, mi sono uccidendo Oh, non si rompe là Pum 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 Ah, mi soppunto io Puttanatamente mi sono curata No Non c'è E vaffanculo vai Vabbè Fai niente Ehm Mori da qui Mangia Tenmi queste cose Che sono Molto buone Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Mi fa ringrazzare Ok Mi ha fatto ringrazzare No, non si già Non mi riporti Vieni fuori Vieni fuori No, non vieni fuori Eh, cosa abbiamo fatto quasi Ah, eh Cos'è un buone fuori Adatto con mo Ah, aspetta Tieni un buon pranzetto Che lo fce la casa Non ti piace 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 Mangate Questa è Una costetta di bocca Allora Adesso vediamo un po' Gli dobbiamo il fiegato Che non serve Non cazzo Il fiegato Vieni Non serve Però Noi glielo dobbiamo Comunque Hashtag Non fate mai queste cose Se diventate dettori Si muove ancora Oh, no Ma adesso il problema Ma come cazzo Io faccio levare il cuore Fuck you bitch Ok Sta a posto Ok Sta a posto Il cuore batte ancora Quindi sta a posto Poi abbiamo meglio Faccio levare lì Eh Cazzo Amari Noi chiudiamo qui per sicurezza Se no Ci facciamo un po' fuori Ah In giro no E mi ha detto Ah che cazzo Vabbè come ci deve usare Vediamo un po' C'è solo il trapano Vediamo un po' Trapano vini a me Vabbè non capisco come fare Vabbè non capisco come fare Vabbè non capisco come fare No, l'abbiamo riusciso di nuovo Ma che c***o Ragazzi è impossibile Ok ragazzi, se sapete come fare O qui c'è questo gioco Consigliatemi nei commenti come Fare Perché è veramente Un'impossible game Anzi no, peggio di Crash, no, come c***o si chiamava quel gioco Vabbè Pongo un gioco di un quadrato che è saltato Allora Spendiamo quella blu, lo uccidiamo Spendiamo quella verde Non lo facciamo sanguinare Però Quindi a me serve Questo qui Vieni qua Vieni qua No, vinca No, vinca No, vinca No, no Vabbè riusciamo a rimanere forse La cosa che va a seguire questo dragon Uno Cerco di fare molto delicatamente Uno fuori Quando il polmone non batte neanche da più Fuori questo L'altro Veniva 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 Quello di quest'altro E Siamo anche questo Dai forza forza Vieni qua No Vabbè Vieni qua Dopo con il martello No Lo sto uccidendo Lo sto combinando No No Non lo sto Un po' No Niente Ora Leviamo anche qui Leviamo anche qui Ecco Ho fatto Credi No Non lo sto Accontentare Quindi Le leviamo qui Le leviamo qui Le leviamo qui E vabbè 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 Devevo Vabbè 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 Ecco Parco Il paziente Dovrebbe essere ancora vivo E staccarando Tutta la sua energia Quindi Vabbè Vabbè Lo sto qui Con l'orecchio Ecco Ok Tu hai più male Ok No Spiccia Sangue Sapete Una sangue Però Viste Non me La contabola Ora Mettiamo qui Questo bicchiere Di me Non ci serve Un cazzo Ah Che cosa Sto combinandolo Via Ok Stato in z Potrebbe servire A qualcosa Però Noi Facciamo Con le mani Ah Via Fuori uno Fuori due Vai Mangia Come non lo vuoi Io Ok ragazzi Vediamo se Riesco A levare un attimo Sì Doviamo aspettare Con calma Con calma Con tutta Casualità Perché il paziente Se non muore È impossibile Vieni fuori C'è Tra l'altro Che non lo mantengo Neanche Il smorbo Via Non lo scollevare Staccati Staccati Ok Posiamo De maniere Debole E qui Ah Ok Vediamo un po' Quindi Tagliamo qui Un taglietto Minuscolo Proprio Così No Non mi vuoi sapere No Tagliamogli qui Oh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Oh si Gli ho staccato il cuore Poggiamola qui Questa Roma Proprio delicata Stacciamogli Questa parte Qui Ah È venuto fuori il cuore Ragazzi È venuto fuori il cuore Adesso prendiamo Il cuore nuovo Senza farlo sapere Perché Sennò Il problema Come faccio a collegare il cuore Ecco Il paziente è vivo Non è vivo Intanto passa la polanza Guarda Non entra Che cazzo Entra Dai Ma te l'ho messo il cuore Che vuoi più dalla vita Tu devi rimettere i polmoni Ti devi buttare Mi scassi Accontentati Solo che un cuore Basta Accontentati Solo che un cuore Basta Bastardo Tu me Ah Via Solo con un cuore Vai Attacca Quattanto Forza Ma dai Impossibile Da aprire Quindi Mi do Mettere Quei polmoni Dai E mo Dove Tazzo Mi Rapprengo Lì Intanto Ricontinuo A perdere Fango Facciamo La silinga Naturalmente E non Ne perde Più Intanto Mi cerchiamo Di mettere Sto Assicura A perdere Mi Sembra Tutto A posto Sono Certo Che Viva Si Viva Comunque Il polmone Vicino A lui Che Non L'avevo Ne Questo Io Lo Sanno 1728 MN Per Operazione 6 Minuti 12 70 Google Ragazzi E Facciamo Continua Grazie Per Questo Video Direi Di Nuovo Come di Nuovo Che Cavolo Che Di Nuovo No Stronzo Sei Molto Di Nuovo No Va Bene Ragazzi Spero Che Il video Vi Si Piaciuto Condividete Commentate Lasciate Un Like Ci Vediamo Al prossimo Video Da Pepe Gio Gamers È Tutto Ciao